Quindi riteniamo che con la posizione italiana si stia in qualche maniera difendendo anche il futuro di un'Europa che sulle grandi scelte strategiche è un po' mancata in passato e può adesso recuperare quelle mancanze e faremo del nostro meglio chiaramente per ottenere la migliore delle soluzioni possibili con un approccio costruttivo e programmatico nel quale però ovviamente dobbiamo tenere aperte tutte le opzioni. Voglio dire, l'unica cosa che io non sono disposto a fare è dare il mio assenso a una riforma del patto di stabilità che non questo governo ma che nessun governo italiano potrebbe in futuro rispettare e credo nel fare questo, cioè nel condurre questa trattativa nel modo più serio possibile non anteponendo i miei interessi personali sapendo che se non si arrivasse a una soluzione o se l'Italia non fosse d'accordo su una soluzione qui verremmo accusati di essere isolati ma sicuramente io preferisco come si sa da una vita essere accusata di essere isolata che essere accusata di aver svenduto l'Italia come invece è capitato ad altri Dopodiché la collega Quartapelle parlava della posizione del primo ministro ungherese Viktor Orban sull'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea sono posizioni che conosco bene, collega Quartapelle, come si sa le mie posizioni sono differenti su questo l'ho dimostrato, le porto avanti non so quanto sulle convinzioni del collega Orban incida anche una rigidità della Commissione europea una rigidità che la Commissione europea ha dimostrato verso l'Ungheria penso al blocco delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza che non è la stessa rigidità che è stata dimostrata verso altri paesi farò chiaramente quello che posso come ho fatto fin qui per consentire che si facciano passi in avanti su una questione alla quale io credo che è il tema dell'accesso all'Unione Europea dell'Ucraina però mi consenta, se posso fare la mia parte è proprio perché riesco a parlare con tutti cioè a me fa un po' sorridere quando la politica estera si pone scelga scelga che vuol dire scegliere? io penso invece che la politica sia soprattutto saper dialogare e saper dialogare con tutti e penso che questo sia anche il modo per dare all'Italia un ruolo da protagonista e se oggi c'è qualcuno che può aiutare a trovare una soluzione è perché c'è qualcuno che è in grado di dialogare e mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore di Mario Draghi per il fatto che c'era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron guardi mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania anche quando a casa non si portava niente io penso che la politica estera non sia fatta di fotografie penso che l'Europa non sia a tre penso che l'Europa sia a 27 penso che si debba riuscire a parlare con tutti i 27 membri dell'Unione Europea come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia e pure con l'Ungheria perché credo di fare bene così il mio mestiere dunque collega Ricciardi collega Ricciardi che voglio ringraziare per aver ribadito la posizione del Movimento 5 Stelle sull'Ucraina ho sentito parole che io considero francamente molto gravi ma è la posizione del Movimento 5 Stelle e per carità ce l'ha ribadita più volte oggi lui l'ha detto con molto chiarezza e cioè l'Ucraina deve arrendersi così avrà la pace noi aiutando l'Ucraina l'abbiamo privata della pace e quindi l'Ucraina si deve arrendere così avrà la pace chiaramente in cambio della libertà ma chi se ne frega perché la pace in Ucraina soprattutto toglie a noi qualche castagna dal fuoco e questa è una posizione che abbiamo già sentito sulla quale io ho già risposto in quest'Aula è la codardia applicata alla geopolitica capisco che sia la vostra posizione non sarà mai la mia posizione non sarà mai la posizione di questo governo